Fioccano le condanne della Corte dei Conti nei confronti di chi è ritenuto responsabile di danno all'erario, cioè ai soldi dei cittadini, ma sono in pochi poi a pagare effettivamente e quasi sempre solo in piccola parte. L'ultimo provvedimento della magistratura contabile nei confronti dei pubblici amministratori o ex riguarda Carmelo Incardona, ex deputata all'ARS, ex assessore regionale alla formazione, condannato in via definitiva dalla magistratura contabile a risarcire circa 800.000 euro. Ora Incardona è destinatario di un provvedimento che accoglie l'azione revocatoria nei confronti degli atti da lui compiuti al fine. Secondo i magistrati, di sfuggire al pagamento di quanto dovuto. Si tratta del passaggio del regime coniugale di comunione a quello di separazione dei beni e della cessione di proprietà di immobili di una somma in contanti di 442.000 euro. Per la sezione d'appello e la Corte dei Conti la decisione di adottare un regime di separazione e alcuni atti notoriali di donazione, altro non sarebbero stati che un tentativo di salvare i beni e farla franca rispetto alle certate responsabilità dell'ex assessore. La decisione ribalta così quella di primo grado, che non aveva accolto la richiesta di revocatoria. La vicenda è quella relativa ai cosiddetti extra budget nella formazione professionale. Si trattava delle integrazioni ritenute illegittime ai contributi destinati agli enti del piano regionale per l'offerta formativa del 2007. Incardona è stato condannato a risarcire un danno di poco inferiore agli 800.000 euro, dopo che l'anno scorso anche la Cassazione dichiarò inammissibili motivi di censura, suoi e di altri politici e burocratici, tra cui l'ex segretario generale Patrizia Monterosso e l'ex assessore Luigi Gentile.